I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno localizzato e arrestato nella località balneare di Baiazzurra il latitante Luigi Piscopo, 33enne di Arzano, quest'ultimo gravemente indiziato di far parte del gruppo gamorristico arzanese cosiddetto della 167 e di aver partecipato ad un'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Il giovane, nella calda mattinata di domenica, è stato fermato mentre si apprestava a raggiungere la spiaggia della nota località turistica. Ad attenderlo vi erano i militari dell'arma che gli hanno impedito di raggiungere l'arenile. Luigi Piscopo dal 25 aprile scorso non era più reperibile. Quel giorno si era sottratta ad un'ordinanza di custodia caldolare in carcere in virtù della quale i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna avevano arrestato 27 persone, tra boss e gregari del predetto gruppo criminale. Con il suo arresto tutti i destinatari della citata ordinanza sono stati assicurati alla giustizia. Grazie. 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 Grazie.